Il Nereto piazza il suo colpo di mercato forse più prestigioso, Andrea De Falco oggi è qui a sostenere il suo primo allenamento con la maglia del Nereto Calcio. Sì, ieri ho firmato il contratto, ero già in contatto con il mister e la società da qualche giorno, ho avuto tante possibilità di mercato, anche ieri, poco prima di firmare ho ricevuto una proposta anche a livello economico molto più vantaggiosa, però io sono un ragazzo che dà importanza alla parola e avevo bisogno di un progetto serio ma familiare, volevo anche un attimino avvicinarmi un pochino di più a casa per necessità familiari, quindi diciamo che questa situazione potrebbe essere la situazione giusta. La mia seconda esperienza, l'anno scorso ho firmato a Siena a fine febbraio, quindi da marzo ero a disposizione della società, ma io non guardo più tanto la categoria, diciamo che la mia carriera l'ho fatta, fortunatamente mi sono tolto anche qualche soddisfazione, ma cerco di portare un po' di esperienza, cerco di aiutare i ragazzi più giovani a capire l'importanza del sacrificio e della passione che va messa in campo ogni giorno, e io diciamo sono un ragazzo tranquillo sia in campo nel gioco che fuori, quindi cerco di dare tranquillità che in un campionato insidioso può sempre servire. Io spero di vederli al campo il prima possibile, spero di vedere la tribuna bella piena, noi cercheremo il massimo di dar soddisfazione a loro, perché un obiettivo comune è quello di gioire tutti insieme.